C'è un thriller davvero fantastico che viene dato nei cinema locali qui. Le prime scene, poi hai detto sicuramente questo è quello che succederà. Previsione. Alcuni minuti è sbagliata. L'ultima scena, sono sicuro, è così. Quando è arrivata l'ultima scena, è successo qualcosa di completamente diverso. Se la suspense accade, il tuo cuore palpiterà, il tuo cuore si spezzerà. L'unico problema è che hai perso la capacità di goderti la suspense. Sei una partita combinata. Hai visto un thriller? Ho letto un libro del genere? Ci siete? Proprio adesso. C'è un thriller davvero fantastico che viene dato nei cinema locali qui. Nessuno di voi ha visto questo film? Io sì. Vi racconto la trama? Solo quel ragazzo sa cosa sia la suspense. Sì. Ma ora non posso raccontarti tutta la trama. Ti racconterò solo l'ultima parte di suspense, ok? Ok, adesso state capendo. Quindi, suspense cosa significa? Vai lì, vedi il poster sul muro. Oh, questo regista, questo attore, forse succederà questo. La mente proietta. Entri nel cinema, guardi tutte quelle immagini. Immagini. Ci sono dieci immagini, vedi, oh, questo tipo farà questo. Credo che lei farà quello. Oh, lui farà questo. Questo è quello che succederà. Cerchi di immaginarti il film. Poi vai a sederti in sala. Le prime scene. Poi hai detto, sicuramente questo è quello che succederà. Previsione. Alcuni minuti, è sbagliata. Hai fatto un'altra predizione. Oh, adesso ho capito. Questo è quello che succederà. Sbagliata. Poi hai detto, no, no, non quello. Ora lo so. Questo è quello che succederà. Sbagliato. Poi a metà film, discuti con il tuo amico e decidi. L'ultima scena. Sono sicuro è così. Quando è arrivata l'ultima scena, è successo qualcosa di completamente diverso. Allora esci dal cinema e dici, wow, che film fantastico. Sì o no? Supponi che tu sia andato lì. Hai visto la prima scena e hai detto, questo è quello che succederà nell'ultima scena. Ed è quello che è successo. Allora esci e dici, non vale niente. Sì o no? Quindi, se tutte le tue predizioni sono sbagliate, è meraviglioso. Ti chiedo, cosa c'è di sbagliato nella tua vita allora? Niente di sbagliato nella tua vita. Qualcosa di sbagliato in te. Cioè, se la suspense accade, il tuo cuore palpiterà. Se la suspense accade, entri in depressione. Il tuo cervello si bloccherà. Se la suspense accade, il tuo cuore si spezzerà. Quindi il problema è che hai perso la tua capacità di goderti la suspense. Sei un po' un tipo da partita combinata. Capisci? Vuoi combinare l'incontro prima di giocare la partita? Sei... È illegale ora nel paese. Ci siete? C'è una legge che lo vieta. Sì. Quindi voglio sapere il risultato del lavoro di oggi prima di farlo. Vi sto chiedendo. Quanti di voi sono davvero capaci di impegnarsi in modo assoluto in qualcosa, sapendo pienamente quale è il risultato? No. Il 99% delle persone non possono impegnarsi nell'oggi se sanno cos'è il domani. Quindi è meglio che tu non sappia cos'è il domani, non è vero? Una cosa che devi capire è... In questa faccenda della vita, sei arrivato senza nessun investimento. Sei arrivato a mani vuote, giusto? Quindi qualsiasi cosa stia succedendo, sei dalla parte del profitto. Ci siete? L'unico problema è che hai perso la capacità di goderti la suspense. Sei una partita combinata. Quindi vai dal tuo astrologo, scrivi un orrorscopo e tutto quanto e dici cosa succederà, cosa succederà. No, non dovresti sapere cosa succederà. Ci siete? Se sei in uno stato gioioso, più imprevedibilità, più divertimento, non è così? Se sei infelice, anche la più piccola suspense ti spaventerà da morire. Sì o no? Il problema è solo questo. Hai perso la tua capacità di goderti la suspense. Niente di sbagliato nella vita. Niente di sbagliato negli affari. No, Sadhguru, ma le condizioni di mercato sono diventate così, questo sta accadendo. Quello è suspense. Ci siete? Vedi che in ogni film, almeno quasi in ogni film, in particolare nei film indiani, sai, l'eroe viene picchiato da 35 persone alla volta. Abbiamo pensato che sarebbe morto. Sappiamo che non morirà. Questo è un problema. Se ci fosse un po' di suspense, forse morirà. Ma sappiamo che non può morire. E anche se muore, arriverà qualcuno che può resuscitare i morti e nell'ultima scena lui starà così. Questo è il problema. Al momento, questo è ciò che vuoi essere. Ti sei ispirato a questi film. Non importa cosa succede, devi essere il vincitore. No. Va bene. Ci siete? Va in questo modo, va in quel modo, va in quel modo. Essenzialmente, sei arrivato senza niente. Quindi qualunque cosa stia succedendo, il tuo bilancio sta andando alla grande. Sì o no? Il tuo bilancio sta andando alla grande perché sei arrivato senza niente. Fossi arrivato con qualcosa, poi lo stai perdendo, sì, lo affronteremmo in modo diverso. Sei arrivato senza niente, di cosa diamine ti stai lamentando? Devi solo capire quest'unica cosa prima di entrare nella vita. diletteremmo in modo diverso. Grazie a tutti.